Ciao a tutti, sono Cyril de Romo e questo amici miei, questo amici miei è Happy Time. Allora, ieri a notte, prima di andare a dormire sono andato a vedere i miei figli, tutti e due stavano dormendo, uno a un anno e l'altro quasi tre, tre e mezzo, quasi quattro. Stavano dormendo ma troppo profondamente, era una cosa eccezionale guardarli senza dire nulla ma vedere che loro stavano dormendo bene e li avrei potuto guardare per ore e ore. Quindi la mia idea per oggi è quali sono le altre cose che potrei fare ore e ore. Io ho pensato che prima guardare il fuoco, il fuoco in casa o fuori di casa ma c'è una calura, è caldo, c'è un dolore, c'è anche l'atmosfera tutta è proprio bene. Io potrei guardare questo fuoco tutto il giorno o tutta la notte veramente e poi ascoltare la pioggia soprattutto dentro di una carpa per dormire. Questo è ottimo, mi piace tanto dormire sotto l'acqua della pioggia, la pioggia, capito? Poi c'è anche vedere la, ai come si dice, quando nevica, quando nevica guardare questa neva per ore e ore e c'è una pace a questo momento, c'è qualcosa di speciale che ti fa poter vederlo per ore e ore. Poi, che cosa vi piace? Li stavo chiedendo al mio amico di vita e lui mi ha detto che la pioggia tropicale è questo che gli piace a lui perché c'è un'aumentà, c'è qualcosa di speciale anche. Mi ricordo nei miei viaggi che questo era eccezionale. Poi, non so se vuoi fare delle idee in montagna, non lo so, ma dovete cercare di creare questi momenti che vi dà la pace interiore. Va bene? Arrivederci, aloha.